Pesante attacco hacker e sistemi informatici della sanità modenese. A renderlo noto sono state le stesse aziende usle di Modena, l'azienda ospedaliera universitaria e l'ospedale di Sassuola S.P.A. L'attacco avvenuto nella notte a caratteristiche simili a quelli che si sono verificati nei mesi scorsi in altre regioni, con l'interessamento dei database delle tre aziende. Immediatamente sono state messe in atto le procedure necessarie per mantenere la sicurezza delle informazioni ed evitare la propagazione dell'attacco, mentre parallelamente proseguiva il lavoro per individuare l'evento scatenante. Le tre aziende hanno dovuto riunire un'unità di crisi per la gestione dell'emergenza. In questo momento ci sono dei file che sono arrivati con delle informazioni particolari che dobbiamo analizzare assieme alla Polizia Postale e alle autorità competenti, prima di capire se si tratta di messaggi reali, sostanziali oppure semplicemente di rivendicazioni a qualcuno che si vuole fare pubblicità. Perché ancora non sappiamo in realtà che cosa è successo avendo bloccato tutti i sistemi informatici e provvederemo uno dopo l'altro a riattivarli. Però in questo momento stiamo facendo l'analisi, dobbiamo capire dove è partito il virus per isolare il sistema informatico da cui è partito e dopodiché pian pianino, una volta isolato quello, potremmo far ripartire tutti i sistemi dopo aver verificato che non siano stati compromessi. A causa dell'attacco sono state bloccate le attività dei centri prelievi riservando l'esecuzione degli esami di laboratorio alle sole urgenze ospitaliere, garantiti invece i servizi di emergenza che fino alla risoluzione del problema lavoreranno tramite sistemi cartacei e utilizzando la rete locale. Per questo motivo sono previsti rallentamenti e le prestazioni programmate nella giornata di oggi, sia ospedaliere che territoriali, potranno subire anche sospensioni per la difficoltà di esecuzione degli esami. Il servizio 118 funziona invece regolarmente. Il cittadino in particolare in questo momento non riuscirà a fare le prenotazioni perché anche se accede da fascicolo, il fascicolo sanitario elettronico si integra con il nostro cup aziendale, quindi se quello è fermo non riesce a fare le prenotazioni. E percepirà in maniera indiretta il fatto che il medico e l'infermiere con cui in quel momento lì ha una visita o un qualunque tipo di interazione, non potrà usare gli strumenti elettronici informatici quotidiani e quindi i tempi magari si allungano ed è per questo che abbiamo fatto come azienda un comunicato stampa chiedendo un po' anche la collaborazione dei cittadini e scusandoci per i tempi che si allungano e i disservizi.